Il regno di terrore dell'imperatore Palpatine è finito. La forza è potente, Calmer, ma voi no. Tu toccherai le vostre famiglie. Ora basta. Informate il consiglio dei geni. Yoda è stato sconfitto. Non lo ponetevi a me. Oh, non credo proprio. Non lo ponetevi a me. Non c'è morte. C'è la forza. Sottomettiti. Sottomettiti. Non c'è niente. Non c'è niente. Siete in un lita. 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 Siete in un lita.